Devo tagliare solo, non è, ecco ora per una volta non è che non me li taglio perché non ho tempo, ma non me li taglio solo perché non ho voglia, non ho assolutamente voglia di andermi a lavare, a tagliare, anche a lavare, ma soprattutto a tagliare e quindi devo anche fare la barba, oggi non ho fatto niente, ho dovuto per tutto il giorno cosa? Mettere a posto il nuovo telefono perché è arrivato, è arrivato, è arrivato il padellone, è arrivato il padellone, è arrivato, guardami e sbloccati, grazie, è arrivato il padellone, è arrivato e c'è la luminosità al massimo quindi non vedete una sega, è arrivato il padellone ragazzi e quindi niente, è grande quanto la mia faccia, no non è un iPhone X come vedete dal notch bellissimo Cioè l'indirizzo, no mi chiamo paura che nel widget con la temperatura ci fosse anche la via di casa, vedete nel notch, da come è fatto il notch potete vedere che non è assolutamente uno schifo di iPhone, vaffanculo Apple, quasi quasi ti uccido Steve Jobs così poi la vediamo come innovata, vediamo, vediamo, lì che adesso fuck, ma io pensavo ci fosse, pensavo ci fosse, pensavo ci fosse, aiuto al telefono nuovo, ora avrà le foto hd del cazzo Vanessa, sei già la seconda persona a dirlo, insomma vedo che non si pensa ad altro, vedo che non si pensa ad altro, no ho scelto questo telefono per il semplice fatto che in pratica ho scritto su Google OnePlus 6T versus telefono di casa Ho fatto il confronto e ho visto che veramente va molto più veloce del telefono di casa, la musica si sente meglio, le foto vengono meglio, quindi l'ho scelto per questo, spero di aver fatto bene, spero di aver fatto un confronto corretto Bene, i peli del cazzo in 4k Pog, assolutamente, cioè vuoi mettere, vuoi mettere, fiss weird man, vuoi mettere scusa, comunque buonasera a tutti, buon lunedì a tutti, ripeto, buonasera a tutti, spero sia andato bene, spero sia andato bene Ehm, cosa? Va bene, yes nice, non mi importa sinceramente Entro in live e vedo un barbone straccione, allora, barbone sì perché ho la barba lunga effettivamente, i capelli sono anche sotto un certo punto di vista carini, sono sotto un certo punto di vista carini Perché continuate a dire buon lunedì, pepega, che giorno è? Ah ma è mercoledì Ah è mercoledì oggi Adesso mi spiegate come cazzo ha fatto il mio cellulare Ma perché ieri non ho fatto le live Ma perché ieri non ho fatto live Ero con... Ero con... Pepega Ma è mercoledì, pepega Ragazzi non ho fatto live ieri, non ho fatto live Quindi non... Arrivo e hai i capelli a forma di broccolo qui su Weirman E quindi niente, ero convinto fosse meglio perché non avendo fatto live ieri, oggi sì E quindi niente, buonasera a tutti comunque, buonasera a tutti E in ogni caso, qualunque giorno sia, ciao! Buonasera a tutti Spero quindi abbia passato un buon mercoledì E niente Incominciamo con la live Quindi Un orologio interno scomb... Io non ho un orologio interno Non l'ho Quindi Forse per me non mangerei Mangio perché vedo l'ora scritta E dico Ah è l'ora di mangiare Ma non mangio C'è lo staff anche questa sera Ma... Ah no, ok Stavo già per partirci con Ma basta Ma non c'è Comunque che tristezza Avevo mutato la live per paura della pubblicità E sono arrivato a... Cosa vuol dire avevi mutato per paura della pubblicità? Buon mercoledì Che senso? Oggi ho passato una giornata del cavolo E sei arrivata tardi Ma in che... In che senso? Domani al primo esame volevo dormire ma sono qui a vederti Grazie mille Grazie Spero ti vada comunque bene l'esame Sennò non mi sento in colpa Vive come un ameba Vivo come un pepega Vorrei dire Come il pepega umano Allora a proposito di pepega umani Cosa faremo questa sera? Questa sera faremo un po' di roba varia Come vedete dal titolo Altra live ma si fa roba varia Perché questo? Perché da un lato Faremo un altro livello Solo uno Questa volta di Supa sedussa E dall'altro punto invece Faremo indie a caso Quindi giusto per variare un po' Pepega Giusto per fare un po' di roba Varia ok? Perché non volevo fare un'ora e mezza Di super sedussa E quindi Volevo fare un po' di mix Volevo fare un po' di mix E quindi niente Ho comprato qualcosina su steam E qua e là E vediamo che cosa ho tirato fuori Se ho tirato fuori dal cappello Roba bella Però quindi partiamo subito Partiamo subito con le bizzate No non parto con Il piccolo Perché prima dobbiamo fare le bizzate Su streamlabs Quindi aspettate che lo apro Mi sono dimenticato di aprirlo Mi sono dimenticato di aprirlo Sì inizio ragazzi eh Ma noi ci divertiamo con Supa sedussa 2 Sì però Una mia prerogativa È portare comunque un po' di varietà Dopo che abbiamo fatto Per due mesi e mezzo Praticamente Solo Boshi Voglio riprendere A fare un po' di varietà Boshi comunque Non l'ho chiuso Non l'ho buttato nel cesso È solo che Voglio ora dare un po' di spazio Anche ad altre cose Non solo a Boshi Tutto lì Ma non l'ho cancellato Io quando cancello un gioco Vuol dire che non lo porto più Boshi è ancora sul desktop Quindi tranquilli Buonasera a te a tutti Infatti ho subito cancellato Ad esempio E come si chiama Conjuring House Da quando mi hanno cancellato I salvataggi Con un aggiornamento Perché gli sviluppatori Sono dei pepega Quindi Tommy Buonasera a te a tutti Giovanni Come stai? Grazie mille Tommy Spero tu stai bene Spero stai tutti bene Hai tempo fino a fine ottobre Tipo a Cappede Cappede Volevo riprovare a fare Intendi dire Bedarco occulto Sì effettivamente Cappede Volevo riprovarlo Effettivamente Volevo Volevo Riprovarlo Effettivamente È una buona idea Cioè Non lo hai detto come idea Ma cos'è sto boccolo? C'ho una molla qua Volevo riportarlo Perché mi è venuta La voglia di finirlo Di giocare Perché dopo aver fatto Cappede E essere arrivati Quasi Alla fine Cioè essere arrivati Alla fine Sono molto più bravo Di prima Anche su Cappede Quindi Uuuu Di dovu Con la macchinina Della polizia Quindi Ragazzi Con la maglia Della quacqua Ho veramente Un caldo incredibile Però Ho sbagliato Ho veramente sbagliato Oggi avevo freddissimo Mi sono messo la maglia Questa qua Della quacqua Perché stavo morendo Di freddo Stranamente E qui E quindi E ora c'ho caldissimo Ora c'ho caldissimo Levala Buongustai Arianna Però poi vengo bannato Perché lo staff Ormai mi odio Mi controlla Del quacqua Ragazzi È qui Guarda Te È scritto qua Se guardate in HD Lo state vedendo Te Que Que Quacqua Quacqua E qui niente C'è un caldo Della madonna Qui in camera mia Quacqua Ma non c'è Una emot Con la Con la papera Dovebbe esserci Tipo Eccola Sì che c'è Pensavo che non ci fosse Ok Ve l'ho messa anche in chat La quacqua Ero Ero com'io C'è forse l'emote Della papera Ma non mi ricordavo Com'è Com'è che si Chiamasse E quindi niente Devo ricordarmi di non mettere Mai più la Da Kertz clap Devo ricordarmi di non mettere Mai più la maglia Della Quacqua Perché è veramente Bollente Mi sento Mi sento una Troia in una chat Erotica Praticamente Come quando gli dici Mincio Sì 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 Ti prego Mettiti il candelabro Su per il culo E lei lo fa Ed è calda Perché lei nella descrizione Ce l'ha scritto Marilena La donna calda Di buona lena E insomma Ed è caldissima Ed è caldissima Muoio fa benissimo Il verso Della Ma è la maglia Non è la Papera È la maglia È la maglia Marilena La donna calda Alini No Non stavo parlando Di quella persona Sbevegoisa Sbevegoisa Grazie Lucky Smoky Che sia una buona Sbevegoisa Anche a te Grazie per i quattro mesi Grazie mille Mamma mia Ilaria ieri mi ha offerto il sushi Tra l'altro ragazzi Ha pagato tipo Sessantadue euro di sushi Contenta lei Io dicevo Pago la mia parte No Ma pago la mia parte No E va bene E quindi niente Ha offerto Non so perché dici Grazie Ilaria per aver offerto Sessantadue euro di sushi Grazie O you can eat Fra l'altro Quindi abbiamo mangiato Proprio da ricchi Siamo andati nel posto In cui vado io sempre E lei non si aspettava Il conto salato Quindi si incula A farla gentile Si incula Si incula Con candelabro Ilaria la donna calda Di buona lena I manca l'aria Dovevo fare una rima Scusate Lodo loca quindi No prima c'era Tommy Buon lunedì Si si Lodo Buonasera repischelletto Come è stato Io ho appena finito Di vedere inglese Di fare inglese Guarda guarda Scopro che il nostro re In anticipo Gaudio et jubilio O jubilio O giù di lì Comunque oggi ho fatto Il carico di biz E ho pubblicato Una sorpresa Va bene Va bene Sono curioso Il conto PJ salt Il conto salt Grazie nonno Bob Grazie mille Arrivo anche a te Buonasera sto facendo Ciao io oggi ho fatto la cacca in ufficio Che schifo L'aria non farei Non userei mai il bagno di un ufficio Mai Grazie per i biz Ricky Buonasera Buonasera anche a te Comunque che schifo L'aria avrei la mononucleosi al culo Cioè che schifezza È una schifezza È una vergozza È una scempiezza Ma io sono il maschio alfa Devo offrire Ragazzi il maschio alfa Deve offrire Mettendo i soldi Qui Dove c'è il muscolo Poi facciamo così E dovete mettere i soldi All'interno di una conchetta Di plastica Semisferica Così che quando fate così Il muscolo si gonfia La conchetta Si schiaccia E i soldi PAM Partono E vanno verso il cassiero Negli occhi E la donna Vabbè in questo caso Ilaria Quindi vabbè Non conta come donna Conta come migliore amica E basta Non è una donna Ilaria non è una donna È una Non è una Non ha la vagina Non ha la tetta È una cosa a parte Però quando avete una donna Su cui invece dovete fare colpo PAM Fate così Partono i soldi E via Partono magari nella bocca Nell'occhio del cassiere E lei rimane stupefatta E sbigottita Self Ma non Ma sì Lo faccio assolutamente Self Non è una donna Per quello Sono il migliore amico Perché è un trap Ma ti sta succedendo qualcosa di incredibile Nella tua vita Ultimamente su Instagram Mi stai rispondendo in tempi incredibili Però gli altri non li caghi È perché va a caso Ragazzi va a caso È come quando fate Le verifiche per campionamento Che fa Che tutta la classe fa la verifica Però la prof puttana Prende la verifica solo a tre persone Tipo a caso È la stessa cosa Voi mi spiegate in tanti Io rispondo a tre persone a caso Hai detto migliore amica Non posso arrabbiarmi minore di tre Ecco appunto Appunto Adesso mi spiegate come cazzo ho fatto In mezzo a dare a capire Ok Google Ok Google Così tutti i vostri cosi Si sono Il mio si è attivato No perché odio Ok Google Quindi l'ho tolto I gatti sono besi Grazie per i cinque mesi Buon live e buon autismo Consiglio come prossima serie Verum 3 Esce Verum 3 Il 13 novembre Inoltre saluta Agli otobiche in chat Non credo proprio Però controllo Perché comunque Non si sa mai con voi Infatti Non c'è Grazie Vado a piangere in un angolino Grazie per i cinque mesi E non lo sapevo Quindi grazie Grazie Ah esce su pc E' vero E' vero Esisteva già E' vero Buon mercoledì Oggi ho passato una giornata del cavolo Ma dettagli Grazie Ciara Mi spiace tu che ho passato una giornata del cavolo Comunque Twitch mi dice ancora Della tua pagina Si io so ancora Ma non mi interessa Grazie Ciara Quindi Grazie per i vizi Spero Spero tu possa svagarti Anche se hai passato una giornata del cavolo Che bello spendere 200 didi Non so cosa fare Allora Arricchisci Mi spendi E spandi No scherzo ovviamente Io sempre ho battuto Sonic Io oggi ho battuto Sonic Dopo 4000 morti Bravo Tommy Parlami poi di Solgrin E anche di Megaman Verum 3 Se non lo completi Entra una live e mezza Metti il rossetto sul cazzo Sulle labbra della cappella Va bene? No perché tanto poi Non ve lo potrei far vedere Quindi Ma ci stai zitto La Lodo Ha picchiettato la bottigliettina Non so perché dici Ma come si dice Mi hai messo una tristezza Una tenerezza infinita Poi parli di Marilena La puttana Fefe Sweelman Allora Lodo Smettila Vomita Era un semplice Ruttino Un semplice Ruttino Sì lo so ragazzi Basta Tetra sete Come come Ah sì Stava usando la bottiglia Lui esatto esatto Buonasera Sto facendo la nonat In november Contenti voi Metti il rossetto Sulle sopracciglia Poi non se ne va ragazzi Ce lo perdo dentro Sto facendo la nonat E avevo intenzione Nella fine di essa Di uscirti il cazzo Con l'annessa foto Della sborrata Essendo minorenne Forse dovrebbe Aggradarti di più K Nonno Bob Grazie per i 14 mesi Grazie per avermi scelto Con Prime Uno Non sono d'accordo Con la nonat Novembre Lo sapete Sapete che C'è sempre bisogno Di una Sega almeno al giorno Almeno una Quindi non ha senso Per me questa cosa qua Infatti l'ho persa Il primo novembre Quindi mi spiace Io sono già fuori gara E seconda cosa Nonno Bob No grazie Antonio Io mi seguo Due volte al giorno E appunto Antonio Uno o due Anch'io appunto Quindi Grazie per il pensiero Però Nonno Bob Grazie per il pensiero Ma dato che sei minorenne Non mi mandare La foto del cazzo No grazie Perché è una cosa Illegale E non ne sono Interessato No grazie Ilaria Conoscete Ma esattamente come il D2 Che conoscete voi Sono piccolo 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 E' bellissimo No però i video No però i video che partono Da soli No è impazzisco Ok no Siamo onoscurati Ok Farsi mandare le foto E ovviamente Maori c'è uno della tribù Maori è molto anziano No va bene È carino Cioè Fa ridere perché è vero È vero Non che io trovo scuse Ma è vero Che sono buggati Cioè È vero Che i giochi Sono buggati Ragazzi Perché Per il vostro diletto Io mi sacrifico E gioco agli indie E sono buggati Quindi E ve l'ho detto Con lo sguardo Più serio possibile Con lo sguardo Più di the weird Possibile Sono serio Sono i giochi A essere buggati Non io O il mio cervello Il mio cervello È rotto Pepega Va bene Ma i giochi Altrettanto Trova scuse Inutili Ma non è vero Quindi l'aria family Grazie l'aria per Per avere Degnato la family Di questo regalo Immenso Non useranno Questa foto Per scopi terribili No Sicuramente Ecco Quando ti stai facendo Un pompino E senti chiuso I denti da latte Lo sai che poi Va bene Va bene Questa è qualità Questa è qualità Altissima Questa è qualità Altissima Grazie pinzatrice Questa è qualità Altissima Lo sai che puoi rimettere Normale No ma Mi devo abituare A quello nuovo Perché poi Dopo un po' Si toglierà Si toglierà la possibilità Di mettere quello Di prima Quindi è meglio Che mi abituo Veramente bellissimo Pinza Davvero Pinza Pinzatrice Davvero bellissimo In fondo Dido Non ha fatto nulla Di male Ecco Già questo Ok Basta Non posso far vedere Perché Non si può Roba Comunque riguardo Un regime Di 70 anni fa Quello che Dido Io pensa di essere Bella la faccia Quello che è Non so cosa sia Né una né l'altra Ah cos'è Mairo Academia Mai Mairo Academia Mairo Academia Minchia Non riesco mai a ricordarmi Come cazzo si dica Con la parola in inglese Crostini comunque Sono uno che sputa sangue Vabbè Non è Poteva essere peggio Poteva andarmi peggio Cioè oddio no In verità dipende dal Dal motivo Buonasera In ritardo Accademia Pepega Pelosi Pulcino Visto di fronte Pulcino Visto di fronte Cosa Ma se è stato brutto Pazzo pieno di vermi Ecco magari questo No grazie Mandux Grazie per i bit Alla fine partecipite Tilaria Spazio Baracchia A Guess My Age Ne abbiamo parlato Letteralmente Poco prima che io Venissi in live Che stavo scrivendo Vado in live Che lei mi ha scritto Ehi su Guess My Age C'è gente che sta Indovinando un sacco Di età E io gli ho detto Bene sappi che non Accadrà a noi Quindi niente Ancora Pulcino Visto di fronte Stanno andando E io ho detto Niente sappilo E lei mi ha detto Non essere così Negativo A me E quindi niente Comunque si Non abbiamo cancellato I piani Però non ne abbiamo Più parlato È stata un'idea Di Alessio Quando ha delle idee Per un nuovo video Mi chiede Facciamo un bambino Per chi Idea sua Creazione mia Lulvu What the fuck Oh mio dio Come abbiamo fatto a non pensarci Finora Come abbiamo fatto A non pensarci Finora Era davanti ai nostri occhi Ma è quanto geniale Ma vabbè ragazzi Era davanti ai nostri occhi Per tutto questo tempo Complimenti Ho salvato ovviamente Complimenti Ad Alessio E a Fugioshi A questo vostro bambino Complimenti A Alessio Per l'idea E Fugioshi Per la realizzazione pratica E concreta Complimenti Bravi 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 Come le cose Veramente brave Bravi 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 Come quelli Dei promessi sposi In poche parole Scusi Non ho capito È un vostro video È per quello Che lo sto guardando Cioè non è una meme Perché questo qua A me ricordo Che è il canale di Manu Mi ricordo che è il simbolino Di Manu Per quello che sono curioso Che sembra un cazzo Però ragazzi Faffaccuno Ma basta Basta Mi state rovinando La vita Basta Mi state rovinando La vita Manu Km You are tearing me apart Ecco Gnomato malissimo Basta Pepe Hens Poste di Monica Volevo dire Buonasera family Anche stasera Non potresti 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 Grazie Joe Grazie mille Per i 5 mesi Grazie Joe Per i 5 mesi Grazie per avermi Riscelto con Prime Per il quinto mese di fila E buon lavoro Mi dispiace Ma buon lavoro Il lavoro Nobilita lo spirito Quindi buon lavoro Infatti io sono Un lavoratore Instancabile Sono qua in live Perché sono un lavoratore Poste di Mo Dito volevo dire Parte la sub Mosca Mosca Cosa Volevo dire Parte la sub Ah si Volevo dire Mosca Mosca Si c'è stato abbastanza timing Poste di Monica Lavoro Omega Lull Allora Work Omega Lull Volevo dire Che la chat tra Monica e Federica E' stata rimosso Intanto l'avevo già rimosso Io l'avevo già ancora presente Ah ok Perché era stata caricata la chat Ok Ragazzi io non guardo Reddit Tendenzialmente non guardo mai Reddit Prima della live Perché non voglio farmi spoiler Quindi se c'era Era stata caricata la chat intera Hai fatto bene a toglierla Perché quella roba privata E io ho detto Volevo gli screen dei nomi Cioè nel senso Non i nomi e basta Ma la prova che fossero stati loro Perché non volevo neanche bannare Gente per sbaglio Tutto lì Ma non volevo Farmi i cazzi degli altri Comunque Monica ha un problema Monica ha detto Che i posti che lui mette Sono visualizzabili Da nessuno Al di fuori di lui What the fuck Ragion per cui Finché non si capisce Cosa sia successo I suoi post Verranno caricati Sul mio profilo Va bene Il post di Monica Se era Giordia Vi ricordate la faccina di Monica Allora volevo chiedere due cose Riguardo le due persone Che mi hanno insultato Ah erano solo due alla fine Ok avevo paura Fossero di più Meglio Meglio due che di più Il primo ragazzo Che mi ha scritto Mi ha scritto su Twitch Il suo nome è DavixSOS È un ragazzo Che io non conosco Sinceramente Vabbè Intanto faccio subito Ed è uno Grazie mille Per averlo detto Ok E uno è andato Non credo ci fosse in live Se ci fosse stato Ok David anche se David se riguarderai Questa cosa In 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 Ritardo Come il tuo Nel senso Come Ciao E addio Due Questa persona purtroppo La conosco Il secondo ragazzo Perché si può dire Che sia stato quasi Il mio primo ragazzo Si chiama Federico Questa persona La conosco da molto tempo Credevo che avessimo appianato Ogni Ogni divergente Ciao Fred Credevo Ritardo Pepega Comunque Credevo avessimo appianato Ogni divergenza Anche se non ci scrivevamo Da tanto Questa persona ti conosce Perché è stato lì Che mi ha parlato di te Quando eri su youtube E' per questo che non volevo Dirti i loro nomi Perché se ti avessi detto Il nome del primo ragazzo Avrei dovuto dirti anche Il nome del secondo E infatti dovevi Se no Questa sera Se non avessi trovato I tuoi nomi Fatti da te Ti avrei bannato Questa sera Lo sai Monica Quindi Poi Non so se abbiamo Profilo Twitch Su Reddit Perché mi ha scritto Su Whatsapp Vabbè Allora Per ora Non posso fare niente Se poi scopri chi è Dimmelo però Perché non voglio Questa persona tra i coglioni Grazie ancora Per avermi difeso Ma come ti avevo detto A te A quell'altra cretina A cui però voglio tanto bene Posso gestirmela da solo Ma infatti Non me ne frega niente Che tu te la gestisca In privato Da solo In privato Ovviamente Te la devi fare da solo Non posso esserci io Ma sul mio canale Non voglio feccia Ricordati che ti voglio bene Lo so Grazie mille Anch'io vi Vi voglio bene Ed è per questo Che mi preoccupo Mi sai scrimmi Poi faremo i conti Ok E niente Se l'altra persona Però non sai come si chiami Su Twitch Per ora non posso fare niente Perché di Fefe Federico Ce ne varie Quindi almeno due ce n'è Quindi non posso bannare a caso E quindi Giustizia è stata fatta Feels ok man Esatto Feels ok man Banna chiunque si chiami Fefe Federico Per precauzione Così A muzzo Ora guardiamo Secondo una cosa ragazzi Ehm Vediamo un po' Verum 3 Verum 3 PC update We get a lot of requests E such a bla bla Version of the pvd is not Bla 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 Ma qui non se ne parla ragazzi Verum Ah eccolo 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 Vabbè bla 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 Era più bello House of Da Vinci Ricordiamolo Sì vabbè Voglio vedere la data Finale Quindi proprio Confermato il 13 13 novembre Cos'è mercoledì? Martedì Martedì Giochiamo a The Room 3 E martedì Si gioca A The Room 3 Bene 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 Aspettate un secondo Che me lo metto Nella lista Così appena esce Mi arriva l'email Perché Perché vi ho Oscurato le cose Che tanto Si vede Reddit Comunque Verum 3 Eccolo qua Ok lo mettiamo Nella lista E voilà A posto E altra cosa Che volevo vedere Insieme a voi però Oddio Ho scritto Senza guardare La tastiera Io l'ho scritto bene Che figata Vabbè House of Da Vinci Voglio sapere Vabbè Scrivo PC Voglio sapere Gli sviluppatori Eccolo qua Blue Brain Games Io voglio andare un attimo Sul loro sito Eole qua Perché vi Vi ricordate Che avevamo visto Che volevano fare un sequel Vedete Pog Ressi Grazie comunque Per i Pog Grazie per i Pog Come ha fatto Pog Se Da Vinci Era L'inizio Di una compagnia Di puzzle game Allora così sarà Credo Sì Credo di sì Our Games House of Da Vinci Mi È uscito È uscito Mysteries of the Pog Che dovrebbe essere Il sequel Alla fine Perché è come House of Da Vinci Trappi Tua madre La puttana Troia Che succhia Il cazzo Satana Non c'è Su PC Mac Apple Store Ma perché No Solo per Apple Seriamente Massimo Matti Ragazzi Veramente Feels weird Oh mio dio Però So vedo Eh sì Che è come House of Da Vinci Oddio Essendo per Mac La qualità è decisamente più bassa Effettivamente Scary and exciting locations Game gallery Ah ma l'hanno reso un trovaglio jet No no ma era già così House of Da Vinci Niente No niente Però c'è un downgrade grafico incredibile Perché per Mac Su Mac girano Le cazzate Linko aperto Stanca nebola Nesdena Nede Sosa Vabbè Comunque Mystery Mysteries of the past Mysteries of the past Past Mysteries of the past Past al past Mystery of the past Ok vediamo il secondo Vediamo se Sosa Criminal case No questa roba Giunti al punto Ma è sta roba Ma è un libro Cos'è Nice one Ma è un libro Ma cos'è Perché giunti al punto Vende i giochi Perché giunti al punto Vende app Ma perché Ma da quando Ma non è vero Che brutto Questo 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 Coso Importante Una spaziatura Infinita Concludi l'acquisto In un'unica Sessione Dieci spaziature Non abbandonare Il carrello Che brutto Che brutto Che brutto E niente Quindi si sono dati Alla merda Se io clicco So Da Vinci Cosa mi dice Guarda che qualità Guarda che qualità No niente Non ci può È ovunque uscito Cos'è Greenman Gaming È un negozio Greenman Gaming 20 euro Add to basket Add to football Allora ragazzi Insomma Un sito Ma non esiste Non ho mai sentito Che prezzi ha Tipo la Fallout 76 A 52 euro Boys Darksiders 3 La Deluxe Edition A 70 euro No Ok no C'ha prezzi di merda Ok Per essere per pc C'ha prezzi di merda Ragazzi È comunque troppo Trails Rising 22 Vabbè Tanto Io l'ho Io l'ho pagato 40 ma perché ho preso La special edition Call of Tulu 39 Su Steam È 40 Tipo Giusto Su Steam Non è 40 Tipo Vabbè Comunque Va bene In ogni caso Mi sembra un sito Un po' Beh Cioè mi sembra Più conveniente Instant Gaming King o King O Kinguin Allora O G2A No scusate Kinguin Sti cazzi No G2A Eh sì D2V Cosa Perchè 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 Non l'ho Riconosciuto Che link era È un link diverso Ovviamente Ciao Dildo Bene Ti volevo consigliere Fortnite Man XD Ti volevo consigliere Una canzone Che secondo me Ti Piacere Porti Super Sedusa 2 Sì questa sera sì Sì va bene La parodia Di Gucci Fucking Shit Lo so Non so come si chiami Non ascolto quella roba Però Non mi fanno impazzire Le parodie Non mi hanno mai fatto ridere Infatti ho visto un po' Di Fizz Weird 50 e 50 Non posso far vedere Uno è un trap E l'altro un furry No Ho aperto il primo Allora Questo è Ciò che mi si apre Cliccando sul primo link Avviso di Reindirizzamento La pagina visualizzata Sta tentando Di indirizzarti Verso iPornTV Punto net Slash download Slash numeri Slash Big dick Trans In spandex E poi Quanto virus E poi quanto virus Non aprirò mai L'altro Mai 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 Virus Monka Omega A parte Big dick Trans È bellissimo È bellissimo Aspetta Che in Mars 3 Notare che 1.02 Ride persino lui Vediamo cos'è questo Non sai che ti perdi Eh va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Molto bella Molto molto bella Molto molto bella C'era una parodia Una delle poche Che mi aveva davvero Fatto ridere E Minchia si va bene Trovabile Questa era Questa era Era questa Ragazzi per chi Conosce un minimo King di kingdom Mars Guarda bellissimo Non so se i sottotitoli Ragazzi io questa Vabbè dura un minuto Ve la posso far vedere Dura un minuto Ve la posso far vedere È veramente Per chi si è conosciuto Il minuto Dura Siamo a te Zora Mi assicurati Zemnos E The Darkless E The No-one Goofy Un giorno, noi dovremo sapere che il tuo cuore dell'esercizio. È come una porta o qualcosa, non lo so, ma Goufie, per favore, stai con noi. È no use, Sora. Il cuore è andato a la porta della scura. Soon, sarà il cuore dell'esercizio, e l'esercizio di nocone. Non lo so, non lo so, non lo so. La risposta a quella domanda, e tutte le altre domande, è vero, il titolo del gioco è... Due Due Remix È bellissimo E niente Una delle parodie Davvero uscite bene Almeno per davvero In giro qualcosa che è davvero Ha senso prendere in giro La trama è estremamente complicata Di Kino Mars A volte Inutilmente complicata Comunque ragazzi Mi sono tenuto Da vedere con voi Per fare la reaction Il trailer nuovo Il trailer nuovo Quello di Quello di Raperonzolo Io non l'ho ancora visto Il nuovo trailer Me lo sono lasciato blind In modo da vederlo con voi Quindi Vediamo Magari sono anche inita Qua scusate Il trailer di Lucca Sarà anche inita Qui magari qualcun di voi È anche interessato Essendo Kino Mars Una delle uscite Più importanti Etica Spostati Vediamo Dai La qualità Veramente Grafica di sto gioco Davvero Sembra davvero Il film della Pixar Sembra davvero Il film È incredibile Vabbè Non è quanto Toy Story Toy Story Lo hanno fatto davvero Troppo bene Però porca troia 5 personaggi Contemporaneamente Combattono Adesso Non ci ho fatto caso Negli scorsi trailer Che eravamo in così tanti Adesso A parte il nostro Il nostro party Ci sono anche ora Quindi Raperonzolo E il tizio Di cui non so assolutamente Il nome Che stanno combattendo Non ho mai visto Rapunza Ragazzi Non lo so Ok Non mi piace assolutamente Il modo in cui si muove Però il tizio Sulla destra Si muove troppo veloce Ah Che brutto No No Che brutto Questa L'hanno già fatta vedere Non mi credo Ho fatto questo Ha fatto un ale Per la prima volta Qua Mi chiedo se il doppiatore Di Rapunzel Sia lo stesso Del film La migliore Dio Ever Bah Come trailer Direi che C'è stato Molto di meglio Si chiama Eugene Infatti Prima al massimo Erano tre No infatti No no Ma intendevo prima Nel senso Negli scorsi trailer Dico Non mi ricordo Se negli scorsi trailer Si è già visto Combattere in gym Comunque finora Il quello più Quello Veramente più Impressionante È stato questo Gli altri sono stati Sempre Una spanna sotto Cioè Questo trailer È impressionante Cioè i tizi Sono veramente Identici Rapunzel Finora è stato Il tre Peggiore Ma di Ma di gran lunga Quello che non mi piace È che Sora E gli altri due Sono veramente Normali Però in quel mondo Non sono fatti a tema È orribile E-U-G-N Come l'hai letto È diventata Toscana Che dice Coca-Cola Loto Io leggo E dico Come leggo E dico io Se vuoi leggere Qualcosa di abbastanza Angosciante Apri la nostra chat Instagram Altrimenti puoi evitarla Altanto sono tre Frasette Ma inutili I post con immagini Video Non save for work Ho deciso Insieme a Mike Che verranno anche Marcate come spoiler Per evitare che si Intraveda qualcosa Oh questa è una grande idea Defo Complimenti Questa è una grande idea Questa è una grande idea Grazie Vediamo Vediamo cosa mi hai detto Su Instagram Guardo allora Un secondo Instagram E-Defo Defo E allora Però su Instagram Ti chiami in altro modo Trovato No Sì vabbè Sì ti ho trovato Ma devo andare Nella chat Madonna Ciara che mi scrive È questo? No No Ma ho aperto la chat Di Ciara Perché ovviamente Mi scrive mentre clicco Trovato Ok No Non è per niente Una cosa che fa ridere Una cosa orribile No Ok ragazzi Era una cosa Estremamente triste E quindi Non vedo perché Mi hai detto Potrebbero migliorarti La giornata Non è vero Sono terribili Parlami poi Cioè nel senso Spiegami qualcosa di più Sono terribile No non posso dire Perché sono una cosa Estremamente brutta Ed estremamente sua Per personale Non posso dirla È molto brutta però Quindi Spiegati poi Così è terribile Grazie Tommy E niente Non posso dirlo ragazzi Perché è una roba Sua personale Molto molto triste Poi comunque Fammi sapere Perché minchia Che ansia Pog you Cos'è sta roba Sì ok Non mi piace Sinceramente ragazzi Pog you A me non piace Lo so Non mi piace Mi piace molto di più Il pog C'è anche il pug chomp Ma L'ho tolto Ma Il più Bello rimane il pog È veramente Boh è strana Questa qua Non mi Non mi piace Non mi È meglio il pog Sì no infatti È meglio il pog Vedo che Alcuni Ci attela Pensano come me Alcuni gli piace Alcuni Pensano come me Però no Il pog Rimane superiore Cioè Ad esempio Con la faccia Del pog C'è Al massimo Serbe carino Al massimo Il 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 Pog weird O Weird Pog Non so Come si Chiami Vediamo Pog weird O è Pog weird O è Weird Pog Una cosa del genere Già questo È un po' Più carino Questo È Un po' È già Un po' Più Questo È già Un po' Più carino E Mentre Quell'altro Non mi piace Proprio Non lo so Ci devo pensare Perché non è Così Bello È bello Ma non così Tanto Quindi Vedremo Vedremo Però c'è già Il did Weird Poi andrebbe a Sostituire Il did Weird Non voglio fare Cannibalismo Tra le mie Emote Cioè mettere Una emote Che poi va A sostituire Quelle che Già ci sono Se voglio Grazie Antonio Per i Iperbra Se metto Una nuova emote Voglio che sia Per un nuovo Bisogno Che abbiamo Ad esempio C'era bisogno Di dire Veramente Qualcosa Di Estremamente Autistico Ci voleva Il pepega Perché non c'era Una emote Che proprio Simboleggiasse Il vero Essere Mongoloidi Il pepega Lo è Quindi C'era bisogno Di una emote Quando ci sarà bisogno Di una emote Che dice qualcosa Per cui le emote Attuali Non vanno bene Allora sì Allora sì Pepega Crap Anche il D2 Era abbastanza Vabbè Anche il D2 Però Pepega Cioè proprio Si vede Che è proprio L'essere Col cervello Così Con qualcosa Che non va Pepega Crap Best Emote Allora L'altro posto Ma è una breve Ricapitolazione Non scudere il video Quello ma Sono degli indovinelli Sette minuti Ok allora Per i prossimi video Cerchiamo di farli Un po' più corti Ragazzi Perché davvero Sono veramente Troppo lunghi E si Taglia un botto Di recap Per questo qui C'è un Un botto Di gameplay Per i video Così lunghi Quindi Se riuscite a farli Più corti Mi fate Un favore gigante Però Se ci sono Enigmi Sono curioso Ma buonasera 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 Mi sono mancata No Sì sì E vabbè Alla fine Alla fine Vi siete tutti Così abituati Alla mia voce Alla mia risata Ai miei modi di fare Sono successe Così tante cose In questo periodo Così tanti eventi Che potrò aggiungere Alla mia storia Ai miei racconti E voi Voi certamente Ne siete parte Lo siete sempre stati E sempre lo sarete Perché è così Che fa la vita Di dobu Così che il virus Ha deciso di agire E io chi sono Eh sì Che è una bella voce Eh sì Di dobu È sfacca Dove ci eravamo fermati L'ultima volta Oh Ricapitoliamo Perché io non me lo ricordo Esattamente Giordi 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 Sì ma che ansia Che cosa aveva fatto Giordi Ah sì Ecco che cosa aveva fatto Aiuto Era arrivato finalmente Nel mondo di Madfather Un mondo nel mondo Non sarebbe mai E poi mai Voluto entrare Sì mi ricordo bene Eib Ma Madfather No Mi sono fatto fare l'autografia Eppure Lui sapeva Che lei era in pericolo Avevo un'idea Avevo una strategia da seguire Deciso di ripercorrere passo per passo Quelli che erano stati gli eventi della sua partita Non è romano l'accento È terrone È terronissimo Cosa 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 Quando l'apro Cosa Aia Hello there Old chimp I'm not an elf I'm not a goblin I'm a gnome No You have been gnome No Basta 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 Il resto si avvicina il specchietto per la loda Lo puoi chiudere Basta Guarda Guarda Sette minuti di niente Basta Ghedafi Ditto please Va bene Ci sta Ci sta Ci sta Ghedafi 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 Ditto please Ghedafi Ditto please Ghedafi Grazie Lodo Chi era qua Grazie Coral E grazie Lodo Complimenti per la inventiva Anche stavolta mi hai fottuto Anche stavolta mi hai fottuto Complimenti Complimenti Lui sono un genio Eh stavolta si Altro posto Ma oggi è il video Nel caso il re Non l'abbiamo ancora visto Gnomo Antonio Sì 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 Lo sapevo Quando Ditto non va in live Quindi non avendo cosa da fare Fai un video a caso Vediamo Nino Dovresti smettere di cascare Professor Pedoton Io ti uccido Ok Io ti trovo Ti taglio i piedi Te li taglio Ti rubo i piedi Me li porto via C'è un feed di gnome incredibile Esatto La chat è piena di gnome Reddit è piena di gnome Ovunque è piena di gnome La mia cronologia porno è piena di gnome Quando stai cercando il porno perfetto Su cui sei caduto prima di andare a dormire Che faccia Ma prendo una tua In una nuova finestra Un clink e clickbait E parti di sottofondo Oh 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 Hello there All jam Anche lì Anche lì Esatto Grazie Dani Altro video ma mi sto divertendo Prima di tutto ti avviso Newt334 Ci sarà una parola molto volgare Perciò oscura Ci sta anche un avviso Che dico di togliere lo schermo Così da non essere bannato La parte volgare Circa 1.08 Era per svagarmi da tutto Allora Negli ultimi 30-40 secondi Quindi ha circa 50 secondi Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non riuscivo ad aprire la porta perché giravo la chiave al contrario. No, hai fatto un video di un minuto e dieci dove c'era casino e dicevi quello che avresti potuto scrivere. Pepega a te, Ciara. No! Ti rompo il lama! Ti rompo il lama, grazie per la sub, grazie mille, ti rompo il lama, grazie per la sub, bellissimo nome, grazie per avermi scelto con Prime, grazie mille. Ma non ho capito, Dido mi vuole prendere i piedi. Sì, te li voglio tagliare e farti dissanguare e intanto rubarti i piedi. Ha usato il potere del viaggio nel tempo? Oggi no però ragazzi, oggi non ce l'ho. Eppure la crosta me la sono comunque strappata oggi, quindi strano. Ommofo. Questo non è... Vedete però è giusto, questo non è segnato come spoiler e quindi si vede. Did you know that... Vabbè no, si dovrebbe poter vedere questo. Lo sapevi che tre persone, se tutte le sono gay? Io sono gay, io sono gay. Ma poi con queste facce bombate, eh. Perché mi fanno ridere queste cose? Non avevo idee. Qui di Dido. Neuroni di Dido. Risposta all'esame. Relazioni con ragazze. Segue giornaliere. Massimo di soldi che spende per giochi. Magliette strappate. Format bellissimo. Antirenti e meme bellissimo. Ha salvato anche questa. Complimenti, anche stavolta. Come sempre, complimenti Antirenti. Omega lulltti, omega lullate. Complimenti. Complimenti. Otto. Omega lulltti, omega lullate Antirenti. Grazie mille, bella, bella, bella. La mia personale interpretazione di Dido Gio Gio. Manga. Netflix. Cos'è sto schifo? Che poi mi esce un cavallo dalla fronte. Ragazzi, questi sono periodi della vita che bisogna dimenticare. Basta. Questo l'avevo già letto. Sera Dido. Quello è che porti Boshi? Quello ne ho parlato prima. Chi vuole fare conoscenza su PN99 su Twitch? Taro su Eddy. Boshi. Boshi. Oggi volevo raccontare un episodio sciocco che mi è successo e che mi ha risolvato il morale. Ultimamente sto andando a dormire, tardissimo riposo male. E oggi parlando con persone nuove che sto conoscendo, stavo per quasi piangere perché mi ho parlato di cose profonde da nulla. Io che mi siedo ultimamente spesso solo anche tra le persone mi sento capita e lì lì per piangere. Alla fine ho pianto da solo andando alla stazione. Ora, in questo mood triste è successo che due autobus che potevo prendere non si sono fermati. Io sono rimasta lì fessa guardando un ragazzo che mi ha guardato a sua volta confuso. Allora sono andato a vedere gli orari e anche lui mi è arrivato accanto e abbiamo iniziato a ridere e ci ho scherzato. No. Eh? Eh? Ce l'ho quasi fatta. Quasi. Quasi. Di dove? E' stato proprio quell'episodio carino e stupido che però mi ha fatto un sacco ridere come una scema. Mi ha distrato dai pensieri brutti che ho troppo spesso. Era un bel ragazzo. Aia. Che assomigliava. Cioè aia nel senso buono. Che assomigliava tantissimo all'attore di Francesco in Reign. No, non so chi sia. Una scella a cui son vicina per una vecchia relazione. Ora sto scrivendo in busse con lui di front. E qui mi fai scendere. E qui mi fai scendere. E mi fai scendere tutto i succhi gastrici. Mi fai riempire la cappella di succhi gastrici. Ora sto scrivendo in busse con lui di fronte. Perché? Invece di parlare gli hai scritto al me. Cioè hai scritto su Reddit. Forse avrei dovuto chiedergli il nome almeno. Ma sembrava stare sulle sue. Volevo condividere questo episodio per sentirmi un po' meno sola. Grazie per aver letto. Sono in live per ridere un po' tutti insieme. Vanessa. Non ti faccio sentire sola ma ti insulto. Cioè nel senso. Ti faccio sentire che hai sbagliato. Ragazzi io le cose sapete che ve le dico in faccia. Vanessa hai fatto una cazzata. Avresti dovuto parlargli. Avresti dovuto parlargli. Avresti dovuto chiedergli il numero. E il nome. E poi se vedevi che la conversazione andava avanti. Magari. Se non volete chiedere il numero. Perché non avete. Perché dite. No il numero. Allora gli chiedevi il nome Instagram ad esempio. Però gli avevi parlato prima. Gli avevi parlato prima. E chi se ne frega. Poi al massimo se se ne vuole stare per le sue. Te lo fa capire. Cioè ti risponde scazzato. Non hai nulla da perdere. Quindi mi spiace ma hai sbagliato. Però vabbè. Magari hai la chance di. Di. Ribeccarlo. Quindi speriamo. Odia Vanessa. No. Mi dà fastidio quando avete queste opportunità. E non le sfruttate. Perché è un peccato. Perché è un peccato. Ma sulla me spunto ogni. Ogni tanto dido con l'elio. In che senso. Ho fatto solo reddite. Quindi non sono tante quelle. Quelle nuove. Ok. Poi c'è qualcosa che non si deve vedere. Ok. Ho già. Ma non è vero. Ma non esiste. Ma non accade questa cosa. Ma non è vero. Me lo farebbero sapere. Ma non è vero. Mente cureco. Mente. 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 Ma come ti ho scritto abbiamo parlato. Appunto. Capisci che sto diventando una checca con le relazioni. Vanessa tranquilla. Tranquilla. Mi hai fatto ridere. No vabbè. Magari a te è sembrato. Che non volesse parlarci. Tu mi hai detto. A me ha fatto capire che non voleva parlarmi. Ma perché? Ma tu hai detto tu stessa che hai una bassa autostima. Quindi tu hai inteso un suo comportamento come un. Ah ecco. Mi ha fatto capire che non vuole parlarmi. 99 su 100 è colpa della tua autostima. Magari invece lui non aveva fatto nulla. Anch'io il tre quarti delle volte capisco sempre male. E do per scontato che la persona che mi sta parlando mi voglia ferire in un qualche modo. O che faccia qualcosa per ferirmi. Perché sono fissato con questa cosa. Ma poi me ne rendo conto che sono io. Però dopo un bel po'. E comunque il bisticcio lo causo sempre. Perché sono la testa di cazzo. Di duelio. Sinceramente mi è successo anche quello. Ragazzi non me ne sono accorto. Ma dura poco? Dura poco? Boh. Se dura poco non so. Non è un credo. Non credo sia un problema del microfono. Perché va andato sempre. Non lo so. E poi se va solo ad alcune persone. Non ha tutte. E' ancora più strana sta cosa. Non ho assolutamente idea. Non lo so. Sinceramente non posso fare supposizioni. Commedia sborrata. E' tornata. Il cazzo mo. E non della sborrata. Nella diserta figa incastrato. Si nel cammin che moscio è per paura. E temo che non sia già si impotente. Chi io mi sia tardi alla sega levata. C'è un 50 fratto 50 con una n word nei nuovi. Il primo è safe. L'altro è instant bang. No. Really. Ah. Grazie Ciara. Ciara! Hai fatto il compito divino. Mi hai salvato. Grazie Ciara. Grazie Ciara. Ormovi e con tu e con la tua cappella ornata. E con ciò che ha mestiere a suodizzare. L'aiutasi chi ne sia addosso sborrata. Il son Ciara. Il son Ciara. Che ti faccio bannare. E va proprio. Vegno del logo over ritornar disio. Figa Mimosse che mi fa sborrare. In questa parte si narra di un cazzo moscio incastrato dentro una figa. E fin lì ok. Figa del bellissimo Ciara. Ah ecco. Che vuole essere sborrato addosso da quel pene. Che chiede aiuto affinché diventi di nuovo retto. Poesia. Poesia. Io mi commuovo. Io mi commuovo davanti a queste gachi buzz club. Io mi commuovo ragazzi. Bellissime. Bellissime. Veramente. Complimenti. Bellissime. Non fai. Cos'è questo? Ah è vero. Mi sono dimenticato Master Lupo. Lo farò. Lo farò. Non ora ma lo farò. Lo farò. In un futuro più o meno plausibile lo farò. Allora. Sto aprendo i nuovi. Sto aprendo i nuovi. Sto guardando. Allora. Sto guardando se ci sono i for work. Cioè a parte quello. Ok allora l'altro quindi è meglio. Oh Leonore. È meglio che non li apro. Quindi che Ciara mi ha salvato il culo. È meglio che non li apro. Però abbiamo questo ovviamente. Chi dimentica me merita il ban. Vero. 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 Benvenuto alla filiale Ritè di Castiglione delle Stigliere. Benvenuto alla filiale Ritè di Castiglione delle Stigliere. Cari followers. Orse. Ragazzi. Guardalo. Guarda Roberto. Una absolute unit. Guardalo. Tozzo. Guarda com'è. Tronfio. Tozzo. Smargiasso. Granitico. Sibaritico. Sibillino. Sinalagmatico. Guardalo. Lo state guardando. Guardalo. Non lo stai guardando. Guardalo. Quanto duro. È tutto duro. È una cittadina di 23.000 abitanti. In provincia di Mantua. Con un tessuto economico. Cioè. Guardate la differenza. Fa questo qua. Bello sciolto. Tutto. Sganaway. E Roberto. Tutto. Così. Tutto granitico. E marmorio. E scultorio. Ciale. Molto attivo. Sede di importanti. Lo guardo. Lo guardo. E' immobile. Sì. Ciao Fabio. Ciao Fabio. Si sta. Si è messo a posto gli occhiali. Tipo. Ome omo. Shinderu. Io me lo immagino. Si mette a posto gli occhiali. E in quell'attimo. Gli partono gli occhi rossi. Come nelle mie. Adesso vi presento la mia squadra. Anzi. Anzi. Sì sì. Mamma mia ragazzi. Anzi. Si presentano. Ciao sono Roberto. Mamma mia. Ragazzi. Come fa uno a non far sovenire duro? Come fa? Come fa? Gachi Bass. Pinin. E ragazzi era per far capire il suono. Quattro cantanti più famosi. Allora. Va bene. A parte. Non so come si chiami quello che ha fatto Despacito. Fedez. Va bene. Me. Il buon. Ovviamente. Boh. Perché ho capito chi è. È quello che dice. Io sono il signore delle tenebre. E scopo. No. La morte. Va bene. Ma non ho assolutamente idea di come. Streets of Benevento. Non ho assolutamente idea di come si chiami. Però bella. Grazie. Dieta 29. La reazione di rido quando guardi i video porno in 4k col suono. Grazie. Grazie anche per questa. In fase di lavorazione. È una gif. Che spettacolo. Crostini. Complimenti. Complimenti. Complimenti sui muretti. I giardinetti. Complimenti Crostini. Veramente. Complimenti come sempre. Complimenti come sempre. Pog. Ma tanto. Ma tanto. Questo è a qualità tanta. Veramente. Complimenti. Crostini. Grazie. E. Non la salvo. Aspetto la versione completa. Però veramente. Grazie. Bella. Bella. Vi devo dare una brutta. Notizia. Vediamo. La Pernigotti. La Pernigotti. Pernigotti. L'avevo letto qua ma. La Pernigotti si è venduta ai turchi. Ah la mia tazza di arancia meccanica si sta già rompendo. Sì vabbè. Non parliamo di queste cose in live perché sono comunque cose di attualità, finanza. Non ne parliamo in live. Comunque sì ho visto. La prima volta per tutti. So era Zegnomed però l'ha un po' fatto sgamare. Crostini è una dea e la mia regina praise the queen. Eh minchia guarda che bravura madonna. Dov'è? Beh pensavo che pensavo spuntasse. E poi c'è il 50 e 50. Quello che avevo aperto qui. Che cos'è? Ah sì. C'è ancora? Io sono Orberto. Ciao sono Roberto. Eh infatti ho sbagliato. Eccolo sì c'è ancora c'è ancora. Mamma mia. Il gachi bas puro. Il gachi bas puro. Il gachi bas puro. A quando c'era moda? Sì perché mi ha salvato il culo. E non lo so questo. Quella è una domanda che merita risposte molto complesse. E quindi si parte. Partiamo ragazzi. Abbiamo detto Supa Sedusa e altro. Partiamo con Supa Sedusa. Quindi. Partiamo con Supa Sedusa. Quindi. Andiamo qua. Poi qua. Allora. Supa Sedusa 2. Advanced Seduction Tactics. Supa Sedusa Pog. Eh sì. Facciamo un livello e poi passiamo ad altro. Supa Sedusa lo giocheremo così. Un livello alla volta così giochiamo anche ad altro. Non.